Voi che siete molti, abbiamo già con il signor Di Maio deciso anche voi un'attività leggermente diversa nel sociale, perché qua non potete più andare avanti così, davvero non ce la facciamo più a pagare le stipendie, non noi autonomi, quindi però non licenziati e via, vi seguiamo per quei due o tre giorni e ci teniamo che voi abbiate un posto importante e poi soprattutto come ho detto lui le memorie dovete scrivere anche in forma anonima, me le mandate a me e rischio io per voi, voi non dovete mai rischiare nulla, va bene? Perché tengo famiglia, tengo il posto, questo è l'italiano medio, rischiamo noi, io ho tante denunce e tra un po' sono un pregiudicato come questi qui che vado a fare.